Non ho mai conosciuto mia zia Cristina, ma sono venuto oggi in quest'aula per capire meglio perché nella mia famiglia non si è mai potuto parlare di ciò che accadde a Cristina. Sono queste le parole pronunciate da Jonathan Mazzotti, nipote di Cristina Mazzotti, la diciottenne rapita nella notte tra il 30 giugno e il primo di luglio del 1975 a Eupilio, vicino a Como, e poi lasciata morire in una buca nel Novarese. La ragazza aveva appena festeggiato la maturità ed era in auto con due amici quando venne prelevata e portata via. Il padre pagò un lauto riscatto, pari a un miliardo e 50 milioni di lire, ignaro che la figlia fosse già morta proprio quel giorno. Una ferita profonda nella famiglia Mazzotti e nell'intera comunità, che si è riaperta nei giorni scorsi con il processo davanti alla corte d'assise di Como per sequestro di persona e omicidio volontario a carico di quattro esecutori materiali e ideatori del piano, ancora vivi e liberi. Alla sbarra ci sono Demetrio Latella, settantenne originario di Reggio Calabria e residente nel Novarese, il cui coinvolgimento è emerso grazie al ritrovamento di una sua impronta sull'auto utilizzata per il sequestro nel 2007. Il pensionato Giuseppe Calabro, settantaquattrenne originario di San Luca, noto come U Dutturicchio, Antonio Talia, settantatreenne originario di Africo e residente a Paderno Dugnano, e infine Giuseppe Morabito, ottantenne nato ad Africo e residente a Tradate, vicino a Varese. Secondo l'accusa, sostenuta dai pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Milano, Alberto Nobili e Stefano Cuvardi, rappresentati in aula da Cecilia Vassena, i quattro imputati avevano agito in concorso con altri 13 membri della banda. La maggior parte di questi è stata condannata nel primo processo a Novara ed è poi deceduta in carcere. Secondo il capo di imputazione, Latella, Calabro e Talia arrivarono alla villa dei Mazzotti, aspettarono la vittima e bloccarono il cammino alla Mini in cui si trovava Cristina con i suoi due amici. Questi ultimi vennero legati, seminudi e lasciati lì, mentre Cristina venne incappucciata e condotta nel Novarese. La ragazza fu tenuta prigioniera in una buca nei pressi di Castelletto Ticino. Fu segregata e costretta a rimanere distesa in una fossa lunga due metri e mezzo e larga un metro e mezzo, con un tubicino di plastica per respirare. Le vennero somministrate dosi massicce di Valium per sedarla. I sequestratori, di tanto in tanto, la trasportavano fuori di peso per rianimarla, dimostrare che fosse viva e ottenere il riscatto. Cristina resistette per venticinque giorni. Il suo corpo senza vita fu abbandonato ad agosto in una discarica vicino a Galliate, in provincia di Novara, e ritrovato a settembre. Il nuovo processo entrerà nel vivo il 16 ottobre e si concluderà all'inizio del 2025. I fratelli ancora in vita di Cristina si sono costituiti parte civile, segnando una svolta importante. Nel primo processo a Novara furono infatti condannate 13 persone, per lo più carcerieri, centralinisti e riciclatori del denaro del sequestro. Tuttavia, i nuovi approfondimenti hanno ristretto il cerchio intorno ai quattro calabresi, ritenuti gli esecutori materiali e i mandanti del sequestro di Cristina. La richiesta di riaprire il caso è stata presentata dall'avvocato Fabio Repici, che assisteva ai familiari del giudice Bruno Caccia, ucciso da un agguato dell'Andrangheta a Torino nel 1983, nel quale era coinvolto Latella. Repici intuì la responsabilità di Latella anche nel caso Mazzotti e convinse i pubblici ministeri a riaprire le indagini. Così ora, finalmente, dopo quasi 50 anni, i principali responsabili del sequestro, i mandanti e gli uomini che rapirono Cristina saranno gli imputati del processo.